E la povertà che ho visto oggi, qui siamo in mezzo a un popolo lontano, un po' da tutto, no? E in mezzo ai poveri, ma pronto. Il Signore nel Vangelo oggi ci dice che saranno loro che ci apriranno la porta per domanine, quando andremo al di là. Nell'ultimo messaggio vocale inviato a Don Adriano, parroco di Ramera, Sor Maria De Coppi racconta il senso profondo della sua missione, quella che 59 anni fa, giovanissima, l'aveva portata in Africa a servizio delle popolazioni più diseredate, donne e bambini. All'amico prete, la religiosa 83enne, poco meno di una settimana fa, confidava anche alcuni suoi pensieri, che oggi assumono un significato preciso. Anch'io ho speranza in quello lassù, in quello lassù, che a lui niente è impossibile. Una fede incrollabile, quella di Sor Maria, che si è trovata davanti l'orrore, poco dopo le 21, quando un commando jihadista ha fatto irruzione a Chipene, distretto di Memba, nel nord del Mozambico, incendiando una scuola elementare, alcune abitazioni e la chiesa cattolica. Qui, nella casa di Dio, l'83enne è stata colpita da un'arma da fuoco, forse un proiettile alla testa, mentre altri religiosi sono riusciti a darsi alla fuga. I preti sono andati a nascondersi in cucina e non sono stati colpiti, mentre lei era in chiesa e lì è stata raggiunta. Le reazioni di convinto sono state mandate a casa ieri sera e ne erano rimaste soltanto due. I due preti sono Don Loris Vignandel di Corva di Azzano X e il porto gruarese Don Lorenzo Barro, missionari della diocesi di Pordenone Concordia Sagittaria. Lo stesso Don Loris, in un messaggio nella chat delle missioni, ha riferito in tempo reale che stavano incendiando le case. Se non vi risento, ne approfitto per chiedervi scusa delle mie mancanze. Le sue drammatiche parole ho perdonato chi mi ucciderà, fatelo anche voi. La diocesi ha confermato in queste ore che sono entrambi vivi e che hanno raggiunto la provincia di Nacala. Da settimane in quella zona la tensione era al massimo. Sapeva cosa stava andando incontro, spiega un nipote. La preoccupazione di Suor Maria era crescente e non la nascondeva ai suoi cari. Lo stesso centro missionario era stato evacuato poche ore prima dell'attacco terrorista, costato la vita anche a un capo tribù. Originaria di Santa Luce di Piave, Suor Maria ha vissuto l'infanzia proprio a Ramera, in questa casa oggi abbandonata. Qui è sempre ritornata ritrovando i familiari. In un'abitazione poco distante, a piangerla, sono la cognata Ivana e i nipoti Michele e Roberto. A pochi passi c'è un'amica d'infanzia, l'ultimo viaggio in paese, poco meno di un anno fa. Come una volta, quando si era giovane, prima che andasse su ora, si erano amiche. Io abitavo qua e lei abitava là, si erano tante amiche. Sempre, sempre, con tanta passione, tanta. Merita la malaria d'oro. Con Don Adriano il rapporto era periodico, a unirli anche il filo della solidarietà. Sono commossa. Perché per me era una donna splendida e mi spiace molto di averla persa. In quel messaggio vocale, il senso di una vita, ma anche il legame profondo con la sua terra di origine. Un caro saluto, tutto di bene per la mera, salutemi tutta la parocchia. Un caro saluto e continuiamo uniti nella preghiera. E voglio ringraziare quelli che ci hanno aiutato e ci aiuteranno. Perché veramente qui andiamo avanti con la providenza di Dio che non ci manca, che ci aiuta sempre.